Di questo corso mi è piaciuto tantissimo l'energia, l'energia che si è respirata nel gruppo perché era forte, era bella e mi è piaciuta Patrizia, che è spettacolare. Lo consiglio prima di tutto, voglio dire che io comunque sono entrata un po' in questo mondo da poco tempo, quindi non ho mai fatto grandi meditazioni, quello che provavo a fare a casa non mi veniva e già da casa leggendo il libro di Patrizia comunque invece sentivo qualcosa, sentivo l'energia, riuscivo a guardare dentro a me stessa che prima non capivo neanche cosa volesse dire e nel corso ho imparato invece proprio come usare questo strumento che sentivo poter funzionare, quindi ho imparato dove andare a guardare e dove andare a lavorare e mi è stato veramente di grande aiuto. Allora adesso sciolto, ci devo ancora ragionare perché probabilmente lo capirò nei giorni. migliorato sì, comunque qui oggi ho capito che il mio cuore era veramente chiuso e da lì sorgono tutti un po' tanti i miei problemi. sicuramente si è un po' sciolto, ho capito che c'era un qualcosa che mi diceva tu non sei abbastanza, tu non ce la puoi fare e invece oggi ho detto no, io ci sono, io ce la faccio perché sono invece abbastanza, anzi sarò anche meglio e non è poco. Ciao Patti, grazie!